Anche Papa Francesco ricorda il terremoto di quattro anni fa. Rinnovo la preghiera per le famiglie e le comunità che hanno subito maggiori danni perché possono andare avanti con solidarietà e speranza, scrive il Pontefice in un tweet. Ieri al termine dell'Angelus il Santo Padre aveva lanciato un appello ad accelerare la ricostruzione. Le commemorazioni si sono appena conclude, allora andiamo in diretta da Amatrice con la nostra... Grazie a tutti.